Buongiorno a tutti quanti. Oggi devo sollevare un problema che Zio Vito ha riscontrato. Ieri sera mentre stavo con il motocarro mi sono fermato per espitare un po' d'aria fresca al passeggio che c'è la via del Basente sotto il termine che si spinge nei bus. A un certo punto ho sentito che camminava Zio Vito solo con le mani dietro come fanno gli anziani contro la via fosse che ci stanno diciamo. Da là le contava erano 138 sono arrivati. A un certo punto ho sentito vieni tu vieni tu 30 30 dai vieni zio ma io non tengo nipote giusto zio non sono zio diciamo mi sono girato sulla destra e c'era una ragazza di di colore ma non ricordo che color era ma era scuro che questo è 30 30 dai 30 ma io ho detto ma non Zio Vito prendo la pensione ma qua 30 ma manca vento ma manca 15 che non ci arriva a fine mese Zio Vito ma manca all'inizio e quindi ha capito che era una signorina che faceva il mestiere più antico del mondo che non è il maniscalpo no 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 non è il fabbri no è una puttana già lavorava la prostituta ecco allora poi ho contato ho detto 30 figlia mia è un po' troppo diciamo ma sinceramente non che ci sarebbe andata ma manca po' 15 diciamo ma proprio che non ce la faccio ho detto bella mia da già c'era la pensione già un po' da che hai monaco auspizzi quindi figursi pure là diciamo che pagano le monaco e la stessa e allora poi a un certo punto questo ho detto ma ce ne erano sei ne ho contato sei sei alla settima ho visto che litigava con un uomo pur capito di colora la chiamava buddhista ma non è che buddhista se sei buddista non è necessario che sei anche buddhista però la chiamava così allora ho capito dalla litiga e quello era il magnaccio ma dico io prima cosa bisogna dire a questi ragazzi che io le chiamo quelle che aspettano sempre l'autobus che non passa mai diciamo questi che fanno la prostituzione e poi gli ho spiegato l'autobus passa sopra al termine la strada di sopra non sotto ma dico siccome sono tranquillamente seduto stanno là da mesi no ma io faccio un appello da zio vite da zio vite che è solo che vive solo con lì nella mia abba d'amante che anche i genitori che portano che passano pure con la macchina che vedono papà che fa quello eh aspetta l'autobus ma non passa i creatori non sono ciò diciamo allora gli ho detto io a tutti i tutori dell'uomo i carabinieri polizzi guardie finanze guardie forestali cioè i forabinieri e diciamo tutti i prefetti perfetto il perfetto soprattutto e poi anche la chiesa che si mette in mezzo ma si sta nell'ausa hanno tutto quanto vanno un sacco di clienti diciamo che quando chiudono gli ipermercati la gente va là perché la fila che c'è non si capisce gente giovane anziana maschile femmine vanno tutto qua anche tanto è tutto un mistolino un mistolino allora dico io ma perché non andare tutte le sere fa 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 un foglio di via far andare queste ma quello poi potono ha detto uno ma ha detto uno della forza ma quello può tornare il giorno dopo e che voi è tornato il giorno dopo c'è tanta volta avete a tornare tutti i giorni ma se voi di questa di qualche anno fa quando stavano vicino alla fabbrica che si pensavano che erano operaie in effetti sono operaie però diciamo fanno un lavoro diverso fanno i turni di notte ma dici pure i sindacati aiutate questi poveri ragazzi ma dico pure questi qua questi che sono venuti con chissà che gli hanno raccontato allora questi magnaci che i magnaci che stanno la sui si l'ha visto Zio Vito che per quanto può essere cazzone ma non ne ho fissi allora dico io ma bustate diciamo non so telecamere io Zio Vito non è uno dell'ordine che Zio Vito era un dottore dell'ordine oh da poco se ne erano aiuti avevano pegliato la via l'ordine che faccio un culo sopra la base d'interno a piede chiaramente allora io dico faccio un appello alle istituzioni vedi un po' che avete a fare ma al massimo sfruttiamo la situazione dito uno spunto al comune di potenza visto che avete fatto tutti i parcheggi a pagamento mettete pure là i parcheggi per queste ragazze occupano un posto perché occupano il posto delle macchine che stanno parcheggiate lì sopra la destra allora mettete i puttometri che si chiamano i puttanometri non lo so come se i magnaciometri così hanno a pagare perché se volete faticare voi pigliate tre in tre cinque quelle che sia di cui tre vanno le ragazze e magari ventisette vanno al puttanito allora fatele pagare le tasse ecco tutto qua una cosa molto semplice non li volete cacciare tanto di questo cappello ma almeno facete per pagare beh sempre a queste persone tutte queste gentagli al vostro che li ha detto in casa vostro ragretta e purtroppo ragretta costa anche di più ciao